Un capitano, c'è solo un capitano! spinto, pallone per Florenzi e tira, go! 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 Ale! 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 Che rassogliata! Che rassogliata! Che rassogliata Ale! Tutti sopra lui! Tutti sopra lui! Ma io scendo pure io! Ma io scendo pure io! Ma io voglio portare sopra pure io! La Roma che passa in vantaggio alla mezz'ora! Una rassogliata da parte di Alessandro Florenzi! Grandissimo Ale! Secondo gol! Secondo gol! Balla verso destro! Stop del pallone! Il tiro! Go! Go! Dalla tre quarti! L'hai fatto da casa tua! L'hai fatto da casa tua! Ho visto fuori il portiere! Dalla tre quarti ha stoppato il pallone! E poi l'ha mandato verso la porta! Ha tirato da casa sua! Ha tirato da casa sua Mattia! Finalmente!